L'intesa firmata con il governo e la nuova gamma di veicoli che permetteranno di contenere i consumi di carburante e le emissioni sono stati gli argomenti al centro del convegno organizzato da Confartigianato Trasporti tenutosi nei giorni scorsi all'Interporto Marche nel polo logistico CAM. Oltre 4.000 le aziende marchigiane coinvolte con circa 12.000 addetti per riottenere gli stanziamenti destinati al settore, il rimborso delle accise, il rinnovo del parco veicoli e il rispetto dei tempi di pagamento. In questa intesa che cosa troviamo? Intanto le risorse che sono importanti, risorse che quest'anno sono state implementate con circa altri 100 milioni per quanto riguarda gli investimenti perché abbiamo un parco veicoli molto obsoleto. Un'altra questione che è prevista che però deve essere realizzata è quella dei tempi di pagamento. Questo è un settore che lavora, anticipa i costi per poter lavorare ma poi la discussione viene fatta in 60, 90, qualche volta 120 giorni e questa è una situazione insostenibile perché i costi sono tanti e poi i rischi che le imprese committenti non paghino sono molto evidenti. Affrontato anche il tema delle infrastrutture marchigiane per le quali i dirigenti di Confartigianato Trasporti hanno evidenziato la necessità del completamento di alcune strade e collegamenti strategici per il settore come nella zona dell'Interporto e del Porto di Ancona, ma non solo. Manca il collegamento Porto A14 anche di questi giorni, altre iniziative fatte con il Comune, con l'autorità portuale proprio perché il collegamento è fondamentale, inutile avere una grande infrastruttura se è isolata. Ma poi i problemi veri sono anche l'autostrada A14, l'A76, un'altra opera, per esempio con la Quadrilatrio dove essere raddoppiata invece ci sono anche qui degli intoppi pesantissimi, i lavori non vanno avanti. L'Affano Grosseto, anche questa è un'altra opera importantissima che noi auspichiamo che venga fatta tempestivamente perché non c'è il collegamento tra l'Adriatico, la Toscana, l'Umbria. Questa sera dopo il telegiornale Occhio alla Notizia trasmetteremo uno speciale realizzato durante l'incontro organizzato dall'Associazione di Categoria.